Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, 30 agosto. Vediamo quali sono i temi della giornata. Insomma, io continuerei su questo filone che abbiamo ottenuto fino ad oggi, e cioè dove sta andando l'Occidente e che cosa pensa l'Occidente di se stesso per il futuro. Il timore che ho è che ci stiamo autocensurando, abbiamo paura di dire le cose come stanno. Oggi forse la cosa che più dà il senso di quello che sta avvenendo è la polemica che c'è tra il Presidente della Camera, Laura Boldrini, e il Segretario di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni dice ma perché Boldrini non ha detto nulla sulla questione dello stupro a Rimini dove sono ricercati tre o quattro nordafricani? Sapete bene che questo è uno dei temi che abbiamo affrontato nei giorni scorsi. La Boldrini in un'intervista a Repubblica.it, che oggi viene riportata dal quotidiano La Repubblica, dice non faccio dichiarazioni su ogni singolo episodio, non è questo il mio lavoro. E poi dice che questa polemica è agghiacciante. In realtà questa polemica non è agghiacciante perché stiamo mettendo in fila tutta una serie di cose per cui prendendo ad esempio il buonsenso che qualche volta sfugge alla Boldrini, e questo penso che sia una critica accettabile perché io trovo inaccettabili le critiche basate sugli insulti che vengono spesso fatte alla Boldrini anche su queste pagine, quindi evitate di farle. Ma trovo che sia molto legittimo poter dire quello che ha detto la Meloni e poter dire quello che sto per dire ora. Ad esempio la Boldrini, che ha detto e ha rivendicato il fatto di non dover commentare su tutto, ha commentato il fatto che pochi giorni prima fossero stati sgomberati gli edifici di una società privata nel centro di Roma occupati abusivamente da quattro anni, in cui stiamo leggendo oggi sui giornali, sulla stampa, sul messaggero, in cui c'era un vero e proprio racket, cioè quello era un gran casino, non era un'occupazione, non era la difesa dei rifugiati, era un gran bordello. Bene, cosa ha pensato di dire la Boldrini che ha quindi scelto nel set diverso delle dichiarazioni che poteva fare quella giornata questa specifica dichiarazione? È disgustoso e rende, scusatemi, disgustoso se non ha detto, non rende un buon servizio all'immagine dell'Italia l'utilizzo della violenza da parte della polizia. Beh, allora forse se vogliamo utilizzare gli stessi criteri della Boldrini non è un buon servizio reso all'Italia il fatto che una delle zone turistiche più famose, cioè quella di Rimini di Cione, in quella zona lì, due turisti polacchi e un transperuviano vengono menati, corcati di botte, come si dice a Roma, e lei si è stata violentata da quattro magrebini, così si sospetta, neanche quello mi sembra una bella immagine d'Italia. Eppure su questa seconda immagine d'Italia, che è un problema perché ogni giorno riusciamo a vedere sui giornali che oggi c'è una coppia di Varese che è stata infastidita nella stessa zona, cioè esiste un problema di ordine pubblico là, insomma non mi sembra che ci sia da parte della Boldrini stata un grande intervento. Quindi è legittimo poter criticare la Boldrini perché le diverse sensibilità rappresentano, se mi permettete, le diverse priorità che pensiamo che la politica debba avere. Qualcuno di voi oggi che mi sta ascoltando, ma lo dico soprattutto a quelli che non condividono il mio pensiero e vorrei che molti di quelli che non condividono il mio pensiero seguano questa zuppa di porro su questo argomento, secondo voi oggi il problema dell'Italia è il razzismo degli italiani o il problema dell'Italia è il problema di un'accoglienza che sta soffocando le nostre città? Noi la chiamiamo sui giornali, abbiamo sempre parlato di invasione, non la consideriamo invasione, ma tra il razzismo e certe zone degradate delle città, l'impossibilità di camminare, di sentirsi sicuri, quale delle due per voi è la priorità? Secondo voi è un problema l'occupazione delle case da parte dei clandestini o è un problema il fatto che ci siano dei poliziotti che utilizzano metodi che secondo me non val più la pena chiamare cileni, ma li chiamerei venezuelani in omaggio al comunista dittatore del Venezuela? Quale delle due è oggi il problema? La polizia violenta o le occupazioni di suoli pubblici, di aziende, di immobili privati? Io direi che forse le risposte per quelli che la pensano come me, cioè con il buonsenso, non con un'idea politica strana, sia molto evidente. Ma Giordano oggi sulla verità prende il tema e dice tutte zitte le femministe, quelle sul mediatore culturale che ha detto lo stupro alla fine piaccia alle donne, perché anche in questo caso, diamine, se fosse avvenuto per qualsiasi altro evidente, cioè si mette in discussione, ha fatto il Presidente della Camera, la questione della polizia per un funzionario che ha detto una frase e poi non c'è stata violenza e non si mette in discussione dopo molteplici prove, l'utilizzo che le cooperative fanno dell'accoglienza, gli affari che le cooperative fanno sull'accoglienza e il tipo di selezione del personale che le cooperative con i nostri soldi fanno dell'accoglienza. E diamine, forse poniamoci il problema. Filippo Facci dice perché nessuno ha detto che lo stupro fa bene, è stato scritto, è stato da un mediatore culturale preso dalla cooperativa di Bologna di religione musulmana? Perché non possiamo dirlo che è di religione musulmana, perché se no siamo islamofobi. Forse in fondo la nostra autocensura ha superato il limite. Oggi ovviamente Michele Serra ci fa una lezioncina sulla Repubblica dicendo quelli di destra, bescera ve lo dico io, che agitano il problema della mancanza del titolo sugli indagati marocchini per lo stupro. Insomma c'è una tendenza a pensare che ci siano degli agitatori di odio, mentre noi che veniamo considerati agitatori di odio, diciamo semplicemente forse il problema non è che si agiti l'odio e che per troppo tempo, quindi anche con delle esagerazioni da parte nostra, non so come dire, da troppo tempo si è fatto finta in omaggio a un ipocrita buonismo politico, si è fatto finta che non ci siano dei problemi derivanti da un'immigrazione che in Italia è stata negli ultimi mesi, negli ultimi anni eccessivamente aperta, senza controlli. Qualcuno di voi ce l'ha con un marocchino che conosce? No. Qualcuno di voi ce l'ha con gli egiziani che lavorano? No. Qualcuno di voi ce l'ha con i filippini che ci aiutano? No. Qualcuno di voi ce l'ha con i romeri che lavorano nelle nostre imprese edilizie e che grazie a loro abbiamo costruito quello che abbiamo costruito? No, almeno così io la penso. Non ce l'abbiamo con le migliaia e migliaia di persone che sono in Italia, lavorano e che contribuiscono, quelle sì, al PIL italiano. Quello che noi pensiamo che sia forse incredibile è ritenere che arrivino 250.000 persone con i barconi e che siano immediatamente utilizzabili in questo paese. Ecco, questo forse lo lasciamo a qualche, come direbbe Martino rispetto a un'intervista che gli fece in onda anni fa, sei anni fa, a qualche pretacchione che non ha bene idea di quello che succede in questo paese. Va bene? Siamo stati un po' duri? Non penso proprio. Vorrei andare avanti sulle altre notizie e ce ne sono due, diciamo tre economiche. La prima riguarda il rendito di inclusione che dal primo gennaio dovrebbe partire. Il rendito di inclusione ve la faccio semplice, si tratta al massimo di 490 euro, circa 2 miliardi che verranno spesi dai contribuenti, per 500.000 famiglie, quindi in totale, siccome le famiglie sono composte anche da maruito, moglie e figlia, si tratta o figlio, si può dire che 500 milioni di euro, 485 euro al mese, 2 miliardi di stanziamento complessivo, il che vuol dire 500.000 famiglie, il che vuol dire 1,8 milioni di persone. Chi sono i poveri? In questo paese, come in tutti i paesi, ci sono dei poveri assoluti, gente che non riesce a comprarsi, non il pacchetto di sigarette, non riesce a comprarsi un litro di latte. Ecco, su questi non si può, non c'è destra che, non ci si può ghettizzare dicendo a destra che questi non li pensano, no, la destra pensa che è l'unico motivo per il quale ci vuole una tassazione, cioè per aiutare le fasce più deboli. Milton Friedman aveva implementato l'imposta negativa sul reddito, una via di mezzo tra il reddito di inclusione di cui stiamo parlando oggi e il reddito orribile di cittadinanza che hanno pensato il Movimento 5 Stelle. I più deboli debbono essere aiutati, punto, non è una questione che riguarda, per la quale la destra non è. Come lo si fa è ovviamente molto importante perché se gli incentivi agli aiuti, se gli incentivi al lavoro e al trovare una soluzione sono bassi, come avviene nei paesi socialdemocratici, ovviamente poi ne risente la ricchezza collettiva. Come è stato fatto questo reddito di inclusione? Intanto parliamoci chiaro, sono pochi soldi, non sono sufficienti e questo lo dice Dario Di Vigo, ma in realtà è comunque qualche cosa che inizia a farsi, quindi io penso che prima di pensare al meglio, che è sempre nemico del bene, un passo avanti è stato fatto. 500.000 famiglie grandemente bisognose riusciranno ad avere un aiuto. Bene, va bene, non si può sempre dire che fa tutto male, questo è stato fatto bene, si poteva fare meglio, sicuramente. I principi con i quali è stato fatto sulla carta sono buoni e cioè avere un ISE molto basso, cioè una possibilità di reddito bassa, quindi non dovrebbe andare agli evasori, mettiamola così, anche se l'ISE ovviamente ci sono anche dei furbetti che riescono a fregarvi e poi l'altra cosa importante è che ci sono dei percorsi per i quali se tu non ti dai da fare per cercare un lavoro o per studiare vengono tolti questi incentivi. Non so se la cosa sia la migliore, ma certamente un tentativo è fatto. Quello che sapevamo che era una cagata pazzesca e che si è rivelata tale e i nuovi voucher a proposito di un paese illiberale. Si sono tolti i vecchi voucher perché c'è stato qualche abuso che ovviamente per la sinistra, le cooperative, la CGL che comunque li usava, era il lavoro in nero dei cattivi imprenditori, si sono aboliti i vecchi voucher, si sono stati fatti i nuovi voucher che sono una tale cagata, burocratica, difficile con tanti vincoli che sapete il Corriere della Sera oggi lo mette in una breve, ma chapeau al Corriere della Sera che l'ha tirata fuori, i nuovi voucher sono stati usati da 6.742 lavoratori. 6.742 lavoratori. Complimenti, grande, 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 grande gentiloni, grandi sindacati, avete distrutto uno strumento di flessibilità, sapete cosa c'è di buono? Che lavoreremo in nero, che lavoreranno in nero, che faranno tutti quei lavori senza pagare neanche quel poco che si pagava per abolire qualche abuso, adesso tutti in nero. Meglio, meglio, in nero, i soldi in nero, così avete capito cosa vuol dire? Eccessiva burocrazia, eccessiva tassazione, eccessivi portali dell'Inps, eccessivi controlli, bene, questo che cosa porta? Solo 6.400 persone che hanno usato i nuovi voucher e secondo te e secondo voi il milione che li usava prima che cosa ha fatto? Si è messo in regola? Il milione che ha fatto prima ha fatto i contratti a tempo indeterminato, ha fatto i contratti secondo tutti gli articoli, ma di che state parlando? Dove vivete? Dove vivete? Non sapete che cosa vuol dire l'incertezza che oggi c'è nell'assumere una persona, però continuiamo così che ci fa piacere. È stata giustamente, i giornali inglesi, ne abbiamo parlato a lungo anche noi, la bambina inglese è stata riportata dalla famiglia della nonna, la bambina cristiana, cui hanno tolto il crocefisso, non facevano mangiare il maiale perché era impuro, la facevano mangiare per terra, insomma dicevano tutto quanto la famiglia finalmente se l'è ripresa, la famiglia da cui proveniva, la nonna di quella famiglia da cui proveniva ed è stata tolta dall'affidamento ad una famiglia la cui mamma aveva il burca, il burca. Anche questo, saremo razzisti? No, è buonsenso, non si dà in affidamento un bambino a una famiglia con la mamma al burca. Altro buonsenso, cinema di Memphis, da 34 anni fa vedere Via Colvento come grande capolavoro, bene, ha risposto il direttore del cinema di Memphis, del festival del cinema di Memphis, che sarà una cagata certamente, ha detto bene, rispondendo ai comitati, no a Via Colvento perché razzista per l'utilizzo degli schiavi e il racconto dello schiavismo in un film datato 1939, bene, non si sarà più proiettato al cinema di Memphis come faceva da 34 anni ogni anno, Via Colvento, Rossella O'Hara, non si può mettere perché il film è razzista, non sessuofobo, razzista. Bisognerebbe ricordare a questi cretini, perché se gli europei sono cretini, gli americani lo sono alla decima potenza quando sono politicamente corretti, alla ventesima potenza, che Via Colvento fu il primo film in cui fu premiata con l'Oscar, 10 Oscar ricevette Via Colvento, fu il primo film con cui fu premiata all'Oscar un'afroamericana, la vecchia mammi, la cicciona nera premiata con un Oscar 1939, ma andassero a farsi fottere questi comitati di Memphis che però l'hanno vinta. Ultima cosa, il missile di Kim, devo dire la cosa è spaventosa, ne abbiamo parlato poco e ora non ho molto tempo per parlarne perché abbiamo già fatto 12 minuti, si rafforza l'Euro, se volete vedere tutto quello che succede quando l'Euro si rafforza è stato fatto molto bene oggi il pezzo sul Corriere della Sera che vi spieghi le azioni, le obbligazioni, le esportazioni, quello che resta è che un pazzo col missile nucleare ce l'ha lì in Nord Corea, dicono di Trump, ma fino ad oggi i presidenti americani negli ultimi 20 anni cosa hanno fatto per evitare che con un missile nucleare fosse in mano a una degnastia di cornuti pericolosi come i dettatori coreani?